Sono entrato come apprendista, avevo 18 anni, anzi sono entrato come manovale. Poi quando è entrata la legge dell'apprendistato alla Piaggio e anche altri industriali gli andava meglio passarli come manovali perché almeno non andavamo a fare la scuola e eravamo sempre a lavorare. Ho avuto la fortuna, sono entrato alla Piaggio, io cercavo di entrare alla Cieli che era l'Enel, poi è venuta Enel. Purtroppo non ci sono riuscito, mio padre ci lavorava ma non voleva che entrassi. Allora mio padre, siccome la Piaggio era una grossa utenza, andava a pigliare le misure mensili, il consumo e un giorno con il capo della manutenzione dice ma non c'è un posto per mio figlio, dice vieni andiamo su all'ufficio personale, io all'indomani ero già entrata la Piaggio. Ma non c'è da meravigliarsi perché la Piaggio è un fin dei conti, eravamo tutti in famiglia, anche Piaggio teneva che i nipoti, i figli di chi lavorava perché a Piaggio abbiamo sempre guadagnato poco, ma sempre poco, se c'era uno solo a tirare la carretta in famiglia si faceva fatica. Fortunatamente a finale avevamo il turismo e i contadini perché ho sempre detto a Piaggio la maggioranza è operai contadini perché tutto il retro non potevano vivere sull'agricoltura, d'altronde è un'agricoltura povera, limitata alle olive, sì che c'è anche roba di orto ma non è che ci sia da accamparci tanto e allora si appoggiavano tutti alla Piaggio. La Piaggio è nata nel 1907, alla fine del 1800 è entrata in crisi i cantieri navali, tutta la spiaggia iniziando già da Varazza da venire in giù, erano cantieri navali più o meno grandi. Quando la navigazione aveva cessato alla fine dell'800 sono arrivati i motori, tanti di questi cantieri navali hanno dovuto chiudere, poi c'è stato questo, sì che è arrivata la ferrovia, ma la ferrovia passava proprio in riva al mare, voi altri siete giovani, non so se vi ricordate, specialmente la Savona a Genova era in riva al mare, da finale arrivare a Ventimiglia è ancora adesso come allora. Tutti questi paesi dove la ferrovia passava in riva al mare erano penalizzati perché ci sono le sbarre, ritardi nello svolgere il commercio quotidiano. Finale, fortunatamente aveva due pezzi grossi al Ministero, ancora a Torino, Burraggi e Ilder Raimondi hanno tenuto di fare la famosa galleria del Gotaro e con la galleria hanno risolto che la ferrovia passa in galleria e fuori dal centro. E cosa è successo con il decadimento di questi cantieri navali? Tantissimi sono emigrati in Francia, negli Stati Uniti, ma tantissimi invece nel Sud America. a quei tempi, eravamo del 1892, era sindaco Ferdinando Baralis, che era un uomo che aveva fondato assieme a Drione e assieme a Sacone il primo stabilimento balneare, perciò con delle visuali diverso il turismo, però c'era questa gente che in quei tempi non c'era mica il sostentamento della disoccupazione, uno doveva aiutarci, passare nei pescatori c'erano già, perciò era fame. Allora, questo Baralis aveva stanziato 150 mila lire da elargire a quell'industriale che veniva a finale e cercava di mettere su una certa attività, possibilmente meccanica, che occupasse una 150 persone. Poi ci sono state le elezioni, Baralis è stato trombato, come si sol dire, ed è arrivato Sacone Nicolò, il più grande sindaco di finale dall'inizio del Novecento ad oggi, perché era un dipendente delle poste, aveva girato tutta l'Italia e aveva osservato tantissime cose. erano fatte le elezioni nel 1902, erano in due in queste elezioni, lui che voleva, la Piaggio, un'attività meccanica finale e c'era un certo avvocato Rossi che è stato il primo a dare luce e acqua in Liguria, una città. Se venite a finale c'è una targa dove indica questo. Se sono andate alle elezioni ha vinto questo Sacone, il Sacone ha iniziato i contatti, prima Piaggio aveva mandato avanti un altro personaggio che se volete nella storia della Piaggio c'è scritto e poi è entrato Piaggio. La fin fine Piaggio pagava a rate, un contratto fatto e tutto e poi un bel momento Palanche non è più arrivato dalla Piaggio, ma l'importante è che c'erano i posti di lavoro e sono stati assunti tante di queste persone specializzate, alcuni sono arrivati anche di fuori, ma era tutto riservato ai carri ferroviari, ai carri bestiami, quelli che portavano le bestie o la mercanzia di commercio e sono andati avanti fino al 1917. Eravamo all'inizio della guerra, quando arrivano le guerre arriva sempre del lavoro ed ecco che sono usciti fuori gli aerei, prima gli idrovolanti, questa è un'altra storia, però i carri ferroviari si sono costruiti fino all'inizio degli anni 50, mi ricordo quando sono entrata alla Piaggio c'erano i carri ferroviari e gli aerei e tra la guerra di Spagna, la guerra delle colonie, la seconda guerra mondiale, il lavoro ce n'erano. Durante la guerra una parte dell'officina l'avevano mandata a Ceva, Ceva è un paese qui dell'Elettroterra, lo sapete, penso anche voi altri, una parte c'era una galleria ancora adesso che serviva per rifornire una cava, la cava Ghigliazza che è di là, perché Piaggio da parte di Ponente ha una montagna detta Capra Zoppa, c'è una galleria che è del 1833 e si va dalla parte di Levante, Borgio, Pietraligur fino a Ventimiglia. La Piaggio poi, la prima parte era più a nord ed era proprietà del convento dei Domenicani che a Cappra Zoppa aveva convento. Poi ha comprato un altro pezzo detto l'isola, l'isola perché era chiusa da due strade via Capra Zoppa e via Brunenghi e lì aveva iniziato la lavorazione della parte ferroviaria. la parte aeronautica era sotto la via Aurelia e lì la proprietà era del demanio marittimo che poi in tempi vicini a noi Piaggio aveva acquistato. E dal 22 si è iniziata questa lavorazione aerea. Siamo sempre stati una ditta dove si lavorava in famiglia, come ho detto prima, padri, zii, eccetera, eccetera. L'assunzione veniva proprio quasi automatica, tant'è vero che a finale hanno aperto perché c'erano le elementari e poi c'era il ginasio, c'era in un collegio, perciò si faceva le elementari e poi ti saluto. Con i tempi poi si veniva a scuola di periti elettrotecnici meccanici qui a Savona. La parte aeronautica ha avuto delle esperienze notevoli, Piaggio perché avevano battuto moltissimi primati di volo. Adesso non parlatemi di aerei che io proprio non so da che parte, ho sempre lavorato fuori, ma nell'hangar grande c'era scritto tutti i record battuti dagli aerei, forse ci saranno ancora adesso scritti. E poi c'è stato questo che a La Piaggio il direttore, se volete faccio anche il nome, ve lo dico, ingegnere Fieschi, è arrivato questo signore Lombardo credo che sia stato, è entrato in simbiosi con Piaggio perché i vecchi erano due fratelli, Enrico e Rinaldo. Fieschi alla fine è venuto presidente della finalese, è venuto e tutti quelli che giocavano nella finalese lavoravano da Piaggio, insomma c'era e poi non so se ve l'ho già detto, anche i preti di finale erano uffici di collocamento perché mi ricordo che si organizzava, avevamo la Vespa, pagavamo a rate, una volta abbiamo organizzato per la Spagna un giro in Spagna, abbiamo dovuto andare dal prete, visto che eravamo cattolici per dire com'era la situazione e pertanto era un po' dolce a vivere perché ai fin dei conti Piaggio quante aerei ha venduto a privati, bastano se non mettiamole anche 20, era tutto militare, tant'è vero che quando il muro di Berlino è caduto, assieme a Piaggio tutti quelli che facevano produzione militare, andiamo nel Brecciano, hanno chiuso e proprio quasi quasi ci aspettava, la guerra ci aspettava. Il finale è piccolino, è molto piccolino, adesso più tanti se ne sono andati, se ne sono, ma come dico la Piaggio è servita per Piaggio e per dare lavoro, ma anche per altre cose, ad esempio le dite che pigliavano, perché ogni tanto bisognava rifare un capanone o un pavimento o altre cose, pigliavano le dite di finale, pigliavano per fare questi lavori, i ghigliazza, i valle, gli acenelli. Da parte dei commercianti e del turismo non era ben vista, ma l'aspetto è questo, il commercio c'era prima della Piaggio, però non potevano tutti vivere sul turismo, perché adesso ci arrivano d'estate 60 mila persone e non sappiamo dove mettere, ma a quei tempi il turismo lo faceva gente con la grana, difatti i primi alberghi costruiti erano l'albergo Lido che era grande, poi pieno di saloni, era tutto da signori, anche le sale da ballo d'estate erano di quelli proprio da persone con delle palanche. E come dico il rapporto è stato sempre buono, è stato anche i capi, qualche ad uno arrivava di fuori, perché poi Piaggio aveva Ponte d'Era dove facevano i motori, facevano la Vespa, facevano l'Ape, poi c'è stato un periodo che alcuni pezzi del motore dell'Ape lo facevano anche a Finale, poi c'era quello di Ponte d'Era, Pisa, Sesteri e Finale. A Finale era solo per l'aeronautica, perché dal secondo erano i drovolanti, avevano fatto la gru per metterli in mare e poi tutti quelli che lavoravano alla Piaggio, contrariamente agli altri città di mare che il militare lo facevano in marina, quelli della Piaggio lo facevano in aviazione. La mia esperienza l'ho fatta in utensileria, l'ho fatta, ho lavorato alla fresa e al tornio, poi sono passato, siccome l'utensileria è andata sotto all'attrezzatura, sono passato all'attrezzatura che ho continuato la lavorazione al tornio, poi sono arrivati i primi torni a controllo numerico, tutta roba elettronica, no? Io gli ho detto guardi il capo, non potete uno che si avvicina ai 60 anni che mi mette lì a imparare tutto, ci sono questi giovanotti che sono periti, freschi e di fatti mi hanno messo al collaudo a rivi. Il collaudo a rivi era un collaudo vicino al magazzino e tutto quello che arrivava, a volte ridevo, arrivavano magari 100 scope dovevo andare la a contare, li contava il magazziniere, sono 100 scope, poi al mi giro c'erano delle punte e lì andavamo per campionatura, ad esempio ogni 100 punte se ne contavano 10, c'era tutta una gasistica che poi avevo fatto io, c'era molto attenti e bisognava stare nei maschi e nelle filiere, nella filettatura perché quando sono arrivati i motori dall'Inghilterra i passi erano diversi e poi c'erano tutti strumenti di misura, le dite che li spedivano, l'avevano già logicamente controllati loro, ma coelibignava controllarli uno alla volta, c'era poi un altro ufficio, si lavorava, si divideva un pochino questo lavoro e mi era appassionato a tutto genere, perché a me piace mettere le cose a posto, mi piace l'ordine e lì questo collaudo era quello che faceva, perché se poi un pezzo non andava bisognava compilare, perché c'era una burocrazia che veniva a sospendere, sta commessa a sospendere palanche, poi c'è questo, Piaggio non è che pagasse, allora ti arrivavano quelli che avevano i fornitori e guarda di poter far passare e guarda che io l'ho passato questi, però il cammino è molto lungo, andate bene a Genova, io cosa ci posso fare. Io sono in 52 e c'era già la crisi, c'è sempre stata crisi, ma erano crisi un po' pilotate, io poi ho fatto 30 anni di commissione interna, che tutto il giovedì andavamo a parlare con la direzione, c'è stato per tre volte, io sono tutta un gruppo, andavamo dal ministro, fortunatamente c'era un ministro russo che era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, quando Segni era Presidente del Consiglio, di Savona andavamo la Tuntun, allora ci mettevano in contatto con il ministro dell'esercito, chi era, andavamo e ci tornava con qualche parte, non c'era promessa, di scritto niente, però serviva perché poi facevamo, anche l'isciope si bloccava la via Aurelia, ci si scazzò un po' di botte tra uno e l'altro e ci si dava perché arrivava la polizia, ma io vi dico la verità che siamo sempre quasi stati in crisi, perché era così, c'era un ambiente girato a sto modo, molto di famiglia, però poi c'era anche, che piaggio, questo qui, mi dispiace averlo dire, ma devo dirlo, è servita tanta gente per farsi dei lavori, per farsi, a darsi la pittura alle barche, altre cose, c'era, ad esempio c'era questo che questo ingegnere Fieschi, che possedeva tre alberghi, possedeva, e tanti operai, guardate io una volta, io ho lavorato nel tornio di palo vent'anni, aveva marcia avanti e indietro, erano due relè, sti relè erano difettosi perché dai, dai tutto il giorno, un giorno mi si ferma, vado dal capo, glielo dico, fa l'affoglio, vado a un magazzino, vado alla manutenzione, ci mandiamo, mandiamo, erano le nove, a mezzogiorno non ha spunta nessuno, a pomeriggio vado, insomma è stato un giorno così, tanto di bolla c'era perché per forza bisogna, all'indomani arriva l'elettricista, mi dice, tu mi sei telefonato, sei venuto e io ho dovuto partire, andare nell'hotel Norris a Noli perché c'era un problema nella cucina, roba di luce e saluti, ma si marciava a sto modo e anche Piaggio lo sapeva perché una volta abbiamo fatto una riunione a Genova e in questa riunione bisognava certe cose dirlo perché poi è inutile che ci neghiate una lira d'aumento quando avete certe cose all'interno che non ci siamo. E allora chi è che dice a Piaggio queste cose? Siccome della commissione interna ero l'unico che non ero sposato, ero io, penso qui e gliel'ho detto. Allora è uscito subito l'ingegnere e dice, ma abbiamo tanto di bolle, tanto di commessa per te, lavori lì, va bene, abbiamo messo lì. Quando siamo arrivati a finale mi ha mandato a chiamare il direttore e mi ha minacciato. Se un'altra volta agisce così, guardi che lei, c'erano anche queste cose, non ho vergogna di dirle ma li racconto perché. D'altronde sono realtà perché era una lotta lì e la lotta era che le palanche non bastavano mai, la Piaggio era così. Se fossimo stati ad esempio a Savona, che poi anche Savona ha cominciato a conoscere, Savona era tutta un'industria, lo sapete meglio di me. A Genova nessuno voleva andare alla Piaggio perché sapevano che guadagnavano meno, perché alla Piaggio a Genova entri qua o lì c'era l'altra industria, ce n'erano delle altre, a finale c'era solo la Piaggio. Allora era costretta, le palanche sono poche, ma anche quel poco lo conti. Abbiamo formato un comitato a finale, eravamo 600 iscritti e ci troviamo ancora. Abbiamo presentato subito un nostro progetto che volevamo non fare un'altra finale, un'altra città, volevamo fare una cosa decente, che fosse una cosa ospitale proiettata verso il futuro e pensare anche alle scuole, perché le scuole di finale sono o ex ospedali o ex caserme, insomma di magari un pezzo di questo dove ad esempio adesso c'è la sala prova a motori, va bene ormai non c'è più, e lì in quel pezzo lì più a nord fare le scuole. Poi nel progetto prevedevano in riva al mare un albergo di quelli tondi come c'è il sestriere, lo avete presente di quelli, roviniamo, tutto roviniamo e siamo riusciti per due volte a bloccare e anche siccome il progetto era stato fatto che c'era un'amministrazione c'era che aveva accettato non tutto ma insomma abbastanza e questa amministrazione poi è caduta, adesso ce n'è un'altra, queste hanno rivisto un pochino i metraggi e c'è questa associazione che il presidente Ferdinando Acquabaralis ci si riunisce e si discute di queste cose perché noi vogliamo ad esempio salvare tutto l'hangar, l'hangar è un capolavoro, se volete lì c'è tutta l'iscrizione perché è un hangar particolare, poi avevamo la galleria del vento dove provavano gli aerei un piccolo modellino costruito dentro la piaggia che c'era quello per la vasca con l'acqua per gli idrovolanti e quello l'aereo, l'altro invece che simulava il volo, simulava e di queste attrezzature in Italia c'è stato solamente che due, perciò queste cose qua vogliamo che rimangono a finale e l'hangar trasformarlo, noi siamo carenti un po' di spazio in biblioteca, la biblioteca, siamo carenti dell'archivio e l'archivio vada a finire lì perché è grandissimo questo, è certo che chi ha comprato cari miei soldi l'ha tirato fuori e vuole fare più case che sia possibile, insomma è la lotta, hanno cementificato tutta la Liguria, hanno cementificato e anche lì c'è poco da dire, bisogna lottare, bisogna. Era un affare molto familiare rispetto a quello che si produceva di tecnico, di particolare impegno sul lavoro, poi di fianco appunto navigava tutto questo paese che poi non era solo finale, gente che arrivava da Pietra, da Villanova stesso venivano a lavorare lì, ma eravamo come una famiglia ecco.